Ieri aveva, ne aveva, 7, 12, 19. 7 più 12 quanto fa? 19. E allora ieri era 7, 12, 19. Ieri abbiamo esibito quel brano di Enrico Ruggeri intitolato Nuovo Finghe e poi abbiamo esibito sempre ieri pomeriggio quel brano di Cocherenato intitolato E' la vita alla vita. Oggi facciamo un giorno di riposo e poi riprendiamo domani, ma è da stabilire domani stesso quale brano dobbiamo esibire e svolgere nel corso della puntata Muto come un pesce. Il termine Muto come un pesce, come sapete già da ormai due anni, sta a significare per l'associazione di idea quella sopropria spagnola sul canale 5 da 5 anni e da un anno e mezzo sull'eterno. Bene, a presto.